Dottor Rosa, il suo commento a caldo sul dato PPI e soprattutto che cosa succederà la prossima settimana sul fronte Fed, ormai anche lei convinto, diamo per assodato un rialzo dello 0,5% e poi che succede? Sì, allora il dato purtroppo ha sorpreso on the downside come si dice, cioè on the upside come numero ma on the downside come sentimento, nel senso che gli operatori ovviamente speravano in un dato che confermasse un po' il picco dell'inflazione, il calo che si è osservato negli ultimi mesi, non consistente, quantomeno abbastanza continuativo, invece sembra che le pressioni inflazionistiche continuino a persistere non solo sui fronti caldi dell'energia e del food, anche con prezzi dell'energia in calo come abbiamo visto, ma anche su una parte più core come quella dei servizi, che vuol dire che l'inflazione, diceva la vostra collega Sticchi, quindi è persistente, non è detto che sia permanente, ma sicuramente non sta scendendo così come si poteva sperare, se non quantomeno aspettare, e quindi la Federal Reserve deve fare un po' i conti con questa realtà, in effetti già da tempo aveva dato un po' un'indicazione di rialzi che aveva in mente di fare quel 75-50-25 che era stato ventilato nei mesi passati, il 75-75 è stato deliberato, siamo adesso al 50 basis point di rialzo che in qualche modo tutti ci aspettiamo per la prossima settimana, vediamo poi cosa succede da gennaio in poi. Ora giustamente viene fatto rilevare che se la prossima settimana i dati sull'inflazione fossero molto peggiori di quanto si possa desiderare, il rischio del 75 basis point in crisi esiste, non può essere certo messo da parte. La Fed ha voluto mandare già da settembre scorso due segnali, diciamo così, in parte contraddittori, quantomeno il mercato li ha percepiti così, cioè da una parte che aveva necessità di rialzare un pochino di più i tassi di quanto detto in precedenza, dall'altra però che il picco si stava avvicinando e che quindi in qualche modo il mercato poteva un attimo tirare un sospiro di sollievo. Nelle occasioni scorse, la parte hawkish di questo discorso ha prevalso su quella dove ci vedremo come andrà a dicembre. E allora sentiamo se ha idee chiare il professore Lorenzo Codogno, LC Micro Advisors, London School of Economics, autore del libro Crescita Economica e Meritocrazia perché l'Italia spreca i suoi talenti e non cresce. Bene ritrovato professore. Buonasera, buonasera a tutti. Professore, ha sentito l'analisi anche della dottora Rosa, il dato sulla PPI, l'abbiamo detto, ha sorpreso in negativo, ormai si stava parlando di una sorta di rallentamento della crescita dei prezzi. Allora, partendo dalla Federal Reserve e poi allargando lo sguardo anche alla Banca Centrale Europea, che cosa si aspetta la prossima settimana? Io direi che il mercato si sta innamorando un po' troppo dell'idea di una svolta, il cosiddetto pivot. In effetti, quello che probabilmente vedremo nei prossimi mesi è una svolta per l'inflazione headline, quindi un'inflazione che comincia a scendere, ma le componenti core dell'inflazione, al netto degli energetici e degli alimentari, probabilmente continuerà a salire ancora per un po'. Ricordo inoltre che negli Stati Uniti c'è una forte crescita salariale, non abbiamo ancora visto segnali di svolta veri e propri sul lato dei salari, quindi i rischi sono ancora elevati. Per questo motivo io penso che il rischio di 75 basis point di rialzo sia negli Stati Uniti che in Europa sia qualcosa che dovremmo prendere in considerazione molto seriamente. Ripeto, i rischi sono ancora elevati perché le componenti di fondo dell'inflazione sono ancora ben presenti e non ci sono ancora stati segnali convincenti di un allentamento. E quindi secondo me in questa situazione le banche centrali non rischieranno di fare dei passi falsi e quindi secondo me nell'incertezza faranno la mossa più forte. Molto interessante questa sua, diciamo previsione, ma questa ipotesi che lei sta mettendo sul piatto. Torno a lei tra pochissimo professore, prima però voglio concludere la nostra chiacchierata con il dottor Rosa. Senta, lei lavora appunto Rosa e Rubini Associates con il professor Rubini chiamato il doctor Doom, appena dato alle stampe il nuovo libro Omega Threats. Lei ha organizzato proprio la presentazione delle ultime ore a Londra. Ebbene, secondo Rubini, vediamo intanto la copertina del libro, è in arrivo la madre di tutte le crisi. In particolare, il professor Rubini cita tra i fattori di rischio, non soltanto quelli ormai di cui stiamo parlando dal 24 febbraio di quest'anno. Mi riferisco all'invasione da parte della Russia in Ucraina, al caro energia, all'inflazione galoppante, ma anche alle conseguenze della crisi pandemica. Ma fa accenno anche a rischi che magari non sono così noti da questa parte dell'oceano. Mi riferisco alla siccità in California, all'intelligenza artificiale che potrebbe decimare addirittura centinaia e migliaia di posti di lavoro. Innanzitutto, le chiedo, quanta parte di questo pessimismo lei condivide, dottor Rosa, da parte di Rubini? E che cosa, diciamo, la spaventa di più di questi fattori che potrebbero impattare nel 2023 alla luce di tutto questo? Come investire il prossimo anno? Allora, diciamo, è una domanda composita. Allora, i fattori che Nuria l'ha voluto identificare sono fattori di lungo periodo. È uno sguardo d'orizzonte che va per i prossimi 10-15 anni. Alcuni, diciamo così, dei rischi elencati, come quelli del cambiamento climatico, come quello della prevalenza delle AI, quindi dei robot, diciamo, sugli esseri mani nei posti di lavoro. I cambiamenti geopolitici, la deglobalizzazione, la polarizzazione del mondo tra Stati Uniti e Cina, la balcanizzazione delle catene del valore globali. Questi sono tutti temi che si svilupperanno nel corso dei prossimi anni. Quale di questi sia prevalente? Ovviamente è difficile dirlo, oserei dire, ci sono quelli più immediati. I rischi geopolitici sono quelli che ci stanno purtroppo in questo momento più a cuore, più addosso, proprio con la cronaca di tutti i giorni. Ha citato lei proprio all'inizio della trasmissione, da quanti mesi ormai questa guerra è protratta e purtroppo tra qualche settimana compirà l'anno. Quindi tutti questi sono fattori che contribuiscono a mantenere uno scenario stagflattivo, quindi a bassa crescita e alta inflazione, ma che rischia di innescare anche non linearità, diciamo così nel linguaggio un po' più accademico, cioè potenziali rischi di default, reprofiling dei debiti e così via, perché non tutto può essere risolto con una dose ancorché massiccia di inflazione, anche perché abusare dello strumento inflattivo per di fatto ridurre il valore reale del debito comporta a sua volta dei rischi. Per quanto riguarda il prossimo anno, per rispondere alla seconda parte della sua domanda, non sono tanto questi i fattori che contano, a meno che non stiamo parlando degli immediati rischi geopolitici di cui ho appena accennato, che in particolare la guerra in Ucraina, ma anche ovviamente la divisione tra Stati Uniti e Cina e quindi l'impatto che questo ha sulle catene del valore e quindi sui supply shocks che abbiamo visto avere un impatto molto forte sull'andamento dell'inflazione per esempio. Però i fattori più importanti saranno ancora una volta crescita e inflazione, la crescita sarà probabilmente molto bassa o negativa, si va verso molto probabilmente una recessione globale, l'inflazione rimarrà probabilmente un po' alta, molto più alta di quanto si vorrebbe sicuramente più alta del target di inflazione di quasi tutte le banche centrali, ovviamente si cercheranno dei tipi di investimento che cerchino di eggiare rispetto a questi rischi, sapendo però che alcune correlazioni come quelle tra stock e bonds, come sappiamo si sono un po' rotte negli ultimi mesi, faranno difficoltà a tornare alla normalità fin quando questo scenario stagflazionistico proseguirà. Ecco, allora alla luce di questo, proprio in sintesi, dottor Rosa, come investire nel 2023 in questo scenario in cui la stagflazione, lei l'ha citato, quindi su questo è perfettamente allineato con il professore Rubini, la farà da padrona, meglio azioni, meglio bond, il cash, Europa, Stati Uniti, proprio in un flash? In un flash, allora, i classici modelli di rispariti o 40-60 in qualche modo forse potrebbero tornare un po' più in voga nel momento in cui ci fosse un declino della domanda e che quindi si andasse a risabilire la correlazione inversa che c'è stata storicamente tra bonds e in equities. Io comunque un equities per un edge sull'inflazione la terrei, se ci fosse un calo dei tassi, i bonds potrebbero essere comunque ancora un buon investimento, preferisco gli Stati Uniti rispetto all'Europa, all'Europa preferisco Developed Markets rispetto a Emerging Markets, infrastrutture, sempre un ottimo investimento, in particolare Digital Infrastructure che sarà comunque un luogo in cui investire nei prossimi anni in qualunque scenario si andasse a realizzare. Brunello Rosa, CEO di Rosenrubini Associates, grazie davvero per la sua presenza oggi qui a Report. Grazie a voi.